Ora è il momento di prendersi cura delle persone scappate dall'Ucraina, non basta accoglierle, bisogna sostenerle soprattutto psicologicamente. La Caritas rivolge un appello accorato all'ASL, metta a disposizione professionalità per far superare ai profughi che arrivano in Irpinia il trauma da guerra. L'attenzione adesso è le persone, persone che chiaramente nei nostri presidi notiamo sofferenti, intanto perché vengono da contesti di guerra e quindi con grossa paura, molto demoralizzate, una paura addosso e poi arrivano qui e si sentono un po' spaesate. Quindi qui ci vuole competenza, ci vogliono professionalità, persone che siano capaci di accompagnarle per quello che sarà il periodo in cui resteranno qui. Intanto al centro anziani di Viannarumma è un continuo via vai di persone che portano aiuti. I volontari invitano la cittadinanza a fermarsi con coperte e capi d'abbigliamento. Tante le storie che si incontrano come quella del signor Alessandro Genito pronto ad aprire le porte della sua abitazione a chi fugge. Abbiamo dato la disponibilità per la nostra abitazione per poter ospitare bambini, le donne che vengono. Io poi ho ospitato per quasi 10 anni una bambina ucraina che finalmente sono riuscito a rintracciare e dovrebbe, sperando di poterlo portare qua, adesso è donna, 36 anni, assieme alla mamma di poter venire qua in Italia. Ma anche gli italiani in Russia vivono tempi duri. Il nostro paese è nella blacklist del Cremlino e arriverà il blocco dell'export. Ma c'è chi, come Elio Cappiello, 60 anni, di origini avellinesi, non andrà via con le sue quattro pizzerie. Ho qui la mia vita, racconta. Farò di necessità virtù, sperando che questa tragedia finisca presto. Grazie a tutti.